Un libro che ci auguriamo possa essere anche un riferimento alla identità di questa università e una testimonianza della grande consapevolezza dei suoi docenti e ricercatori che hanno studiato e lavorato in grande sintonia per mettere in evidenza la nostra storia ma soprattutto la volontà di essere i protagonisti di un'università che cambia e sempre all'avanguardia.